ciao ragazzi mi chiamo gianni magnino ho scritto l'incipit del racconto la casa sulla collina ora siete pronti per cominciare l'avventura la vostra prima di quella dei personaggi del racconto e sì perché scrivendo si vive una bellissima avventura qualche consiglio non abbiate paura di scrivere cancellare poi riscrivere poi cancellare poi riscrivere ancora e se lo fate in gruppo accettate consigli critiche discutete non abbiate fretta di arrivare alla conclusione se dei tre ragazzi volete farne dei supereroi non è necessario che siano dotati di superpoteri un supereroe è colui che affronta le difficoltà con coraggio anche con la fantasia per risolvere i problemi suoi e dei suoi amici ciò che conta è la collaborazione anche per scrivere una storia e adesso mi auguro buon lavoro ma soprattutto buon divertimento perché scrivere storie e divertente anche se faticoso a se finita la storia volete cambiare il titolo non fatevi problemi forza si parte e fatevi sapere ciao